ciao a tutti buonasera buonasera a tutti benvenuti buonasera benvenuti questa live serale per parlare del potere seduttivo di una tipologia di donne che rasco rasco perché ho un po di mal di gola un po di mal di gola ma va bene così quindi rasco ancora saluto baghera che non mi ricordo mai come si chiama allora quindi il potere seduttivo no hai vinto un'altra cena devi offrire le cene non è che le vinte cioè baghera com'è che ti chiami devo offrire la cena tu zitta e rasco allora dicendo gli uomini è la più odiata donne qual è il potere il potere seduttivo della gatta morta qual è il potere seduttivo della gatta morta il potere seduttivo della gatta morta è legato a un fatto è legato a un fatto fondamentale tanto saluto tania grandi cosa pensi di marco marci marchic e chi non so che sia marco marchic che è questo gaitano intanto saluto delle persone allora la gatta morta perché seduttiva intanto la gatta morta e seduttiva per un motivo per un motivo particolare perché diciamo capisce gli uomini cosa che le mogli non sanno fare senti gaitano non so chi sia la persona che citi ma il tema è quello della gatta morta quindi inutile che stai a fare domande su un qualcosa che non c'entra con la gatta morta allora quindi allora dobbiamo tenere presente o la maria paola gatto dove ottenere presente dobbiamo tenere presente questa che dobbiamo tenere presente questo che la la gatta morta la gatta morta e sa conosce conoscere gli uomini sa cosa pensano gli uomini sa che cosa gli uomini desiderano e questo perché lo sa lo sa perché ha avuto un imprinting la gatta morta tanto saluto un po di persone patrizia grazia maria paola nonna maria paola e tutte le altre persone perché una donna diventa gatta morta intanto che tipologia di donna è la gatta morta la gatta morta è una tipologia di donna che tiene normalmente un basso profilo quindi non non è una donna vant non è una super femmina diciamo così anzi spesso si presenta con una maschera da ipo femmina ipo femmina quindi che tiene come dire nascosta la sua femminilità non la esibisce eccessivamente ma è femminile però ha una femminilità che si percepisce a pelle e e però tende a mascherarla tende a nasconderla tende a non esibirla sa esattamente quello di cui hanno bisogno gli uomini e lo sa buonasera alessandra casara e lo sa perché ha avuto una un imprinting legato al alla conflittualità al tradimento vissuto dalla madre cioè lei ha percepito la madre come una traditrice come una donna che ha cercato di sottrargli l'affetto del papà fondamentalmente quindi per tutta l'infanzia e tutta l'adolescenza diciamo così ha lottato contro la madre soprattutto lì dove la madre diciamo lì dove ha ritenuto deficitaria la madre cioè nella conquista degli uomini e quindi lei si è allenata a capire gli uomini e a conquistare gli uomini quindi la gatta morta potremmo dire che è una seduttrice naturale è la seduttrice per antonomasia è la donna più seduttiva in assoluto e ripeto e quindi è interessante notare questo che molte donne cercano di essere seduttive esibendo esibendo si manifestano come delle vamp no minigonnate pop putte esibisco cercano di esibire diciamo così le aspetti l'aspetto fisico no quindi tendono a esibire il fisico quindi si manifestano magari mettono vestiti super attillati si rifanno le tette per dire e credono che questo sia seduttivo in realtà non sono per nulla seduttive o sono molto poco seduttive perché in realtà si rappresentano come delle bambole che però non hanno quel non so che di seduttività che invece ha la gatta morta pur mantenendo un basso profilo perché la gatta morta non esibisce mai la gatta morta non è una che va in giro con la minigonna non è che va una che in giro con le tette di fuori con scollature vertiginose la gatta morte tutto il contrario tiene un profilo basso ma emana diciamo nel modo di muoversi nel modo di guardare gli uomini a una comunicazione non verbale estremamente seduttiva a una comunicazione non verbale estremamente seduttiva ha la capacità di si muove in modo molto armonioso molto sinuoso è difficile da definire diciamo qual è la seduttività della gatta morta però non esibisce assolutamente nulla non esibisce assolutamente la gatta morta di solito è molto coperta e molto in disparte e però ha la sua comunicazione non verbale è un qualcosa di come dire molto estremamente sensuale lo sguardo soprattutto quando guarda un uomo di comunica tutto praticamente ti comunica come dire sa entrare in sintonia con le fantasie erotiche di degli uomini non è manipolativa nel senso che a seconda degli imprinting mi sei innamorato io jessica naturopata io mi sono innamorato no non mi sono innamorato io non cento io non sto parlando di me che c'entra la gatta morta c'è la gatta maria paola gatto la baghera io non sono assolutamente innamorato di nessuno comunque stavamo dicendo la gatta morta questa capacità di coinvolgere a livello molto profondo il maschio a livello molto profondo e non è manipolativa ma una caratteristica quella di essere competitiva con le donne sono solo conflittuali padre la gatta morta è un ex conflittuale padre si un ex conflittuale padre la gatta morta è un ex conflittuale padre ma ha questa caratteristica no questa caratteristica di come dire tende a innamorarsi di uomini impegnati tende a innamorarsi di uomini impegnati la gatta morta è un ex conflittuale padre che ha avuto un tradimento dalla madre proprio perché ha avuto un tradimento dalla madre è in perenne competizione con le donne ma è una competizione soft quella della gatta morta ci sono diversi tipi di competizione la gatta morta non entra in competizione aperta con una donna anzi tende a presentarsi come amica tende a presentarsi come amica come consigliera tende a fare il grillo parlante diciamo così delle donne tende a fare il grillo parlante quindi si presenta come consigliera si presenta come donna che diciamo che sta dalla parte delle donne in realtà sta dalla parte delle donne perché comunque gli tende a fregarli poi il marito tende a fregargli il compagno ma non a fregarglielo per portarglielo via a fregarglielo semplicemente per sedurlo perché poi in realtà la parte emotiva della gatta morta sfera emotiva della gatta morta è quella di sedurre il maschio ma sedurlo per portarlo via ad una femmina quindi il vero obiettivo della gatta morta non è l'uomo ma è la donna la gatta morta non è non è insicura è molto sicura di sé la gatta morta ha semplicemente anzi molto più sicura delle altre donne a cui porta via gli uomini perché la gatta morta fallisce raramente diciamo così fallisce fallisce raramente quando si mette in testa di portare via un uomo una donna anche soltanto per una notte glielo porta via cioè poi in di fatto la gatta morta non è interessata a tenersi maschi che seduce è interessata a dimostrare alle altre donne la proprio la sua superiorità no dimostra alle altre donne di riuscire a a portare via l'uomo beh certo porta zizzagna nella coppia nel senso che certo nel senso che seduce i maschi e si aggancia a uomini sposati quasi esclusivamente a uomini sposati difficilmente infatti se una persona è single se una persona è single e vuole sedurre una gatta morta deve assolutamente ecco interessante questo no se io volessi sedurre una gatta morta ad esempio non potrei presentarmi da single perché avrei poco successo con una gatta morta a parte che non me ne frega niente però dovesse sedurre una gatta morta non non dovrei presentarmi da single dovrei trovarmi una spalla dovrei trovarmi una spalla una spalla femminile un'amica che mi faccia dovrei dovrei scegliermi un'amica che mi faccia la spalla in modo tale da presentare questa questa amica come la mia fidanzata e allora inizierei subito ad avere appeal sulla gatta morta dovrei presentarmi diciamo e questa fidanzata che caratteristiche devo avere questa fidanzata dovrebbe presentarsi come follemente innamorata di me perché la gatta morta non gli frega niente di sedurre un uomo che sta in crisi matrimoniale con la propria compagna non interessa non ha appeal perché è come dire è già una cosa scontata la gatta morta si coinvolge con uomini ha molto amati dalle donne molto amati dalle donne perché lei ha la il suo piacere il piacere della parte emotiva è quello di dimostrare che anche in una coppia che funziona dove soprattutto la donna è molto innamorata dell'uomo lei riesce comunque a portarglielo via e questo è dovuto all'imprinting che ha vissuto all'interno all'interno della famiglia d'origine quando ha dovuto lottare diciamo così con le unghie con i denti per cercare di sottrarre il il papà alle grinfie della mamma come dire che riteneva inadeguata come femmina che riteneva inadeguata come femmina quindi la gatta morta ha un modello materno inadeguato come femmina e quindi lei si è sostituita diciamo si cerca di sostituirsi cerca di sostituirsi a questa situazione cerca di sostituirsi a questa situazione a questa femmina diciamo così che rigiudichi inadeguata proponendosi lei attraverso il modello femminile cioè dove ritiene che la mamma che la mamma abbia fallito lei vuole riuscire e questo spesso succede non è il modello genitoriale questo spesso succede nel modello genitoriale perché i figli diciamo cercano di competere con i genitori lì dove ritengono i genitori abbiano fallito solo dove ritengono che i genitori abbiano fallito i figli cercano di prendere il posto e mettono in atto l'atto di ribellione verso i genitori proprio lì dove il genitore ha fallito e d'altra parte c'è anche questa cosa interessante che i genitori danno consigli ai figli proprio loro dove loro hanno fallito questa è la cosa è la cosa interessante cioè un genitore che da un punto di vista lavorativo ha fallito cerca di dare consigli ai figli su come avere successo in ambito lavorativo perché non tollera che il figlio pure il figlio faccia la sua stessa fine diciamo così e quindi questo è un qualcosa di è un qualcosa di strano ma succede succede sempre dove tu ritieni di aver fallito vuoi dare suggerimenti al figlio hai avuto una vita matrimoniale di merda dai suggerimenti al figlio su su qual è la persona giusta per lui tu che non è in mezzo e cata una hai sempre trovato le persone sbagliate però ti metti in testa che proprio perché tu hai avuto le persone sbagliate vuoi che il tuo figlio non ripeta la stessa solfa gli dai suggerimenti ma che suggerimenti potrei dare a uno se tu sei un fallito in quella situazione lì c'è un genitore che lavorativamente è stato un fallito non è azzeccata una ogni cosa che ha fatto è finita male da suggerimenti al figlio su come avere successo da un punto di vista lavorativo ad esempio e gli dice no ma dovresti fare questo lavoro ma no ma perché fai questo lavoro ma non puoi perdere st'occasione ma fai quello fai quello e questo è il paradosso no se vogliamo il paradosso il genitore lo fa perché crede di aver imparato dei suoi errori beh lui credere aver imparato infatti e ottiene esattamente quello che viene chiamato atto di ribellione e la gatta morta la madre della gatta morta diciamo così la madre della gatta morta cerca di dare la madre della gatta morta cerca di dare suggerimenti diciamo così alla figlia gatta morta su come su che tipo di vita familiare avere siccome la gatta morta ritiene che sua madre sia una fallita da un punto di vista sentimentale perché ad esempio si è divorziata ha fatto fallire la famiglia molte diciamo molte madri delle gatte morte sono separato divorziata ad esempio no quindi e la figlia la gatta morta perché un figlio comunque vede quando un genitore si separa lo vede sicuramente come un fallimento della della vita matrimoniale no questo nulla contro le separazioni però ovviamente un figlio quando vede un genitore che si separa percepisce questa separazione del genitore come un fallimento della vita matrimoniale no e allora o la canetti sits plats sits e allora un genitore che si separa ad esempio ecco interessante questo non un genitore che si separa e che quindi fallisce la sua vita matrimoniale da indicazioni al figlio su chi si deve sposare il figlio ecco questo è questo succede questo è divertente non questa cosa succede 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 sempre succede sempre questa cosa ed è interessante noi i genitori separati che hanno fallito nel non hanno non sono riusciti a mantenere unita la famiglia danno suggerimenti ai figli su su chi dovrebbero sposarsi o su quello che dovrebbero fare quindi questo è oppure danno suggerimenti diciamo su come costruirsi una vita familiare no quindi questo è interessante no come 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 cosa capita e la gatta e questo cosa scatena nel figlio scatena un atto di ribellione scatena un atto di ribellione nel figlio ovviamente no e la gatta morta si trova in questa situazione siccome la gatta morta ha giudicato la madre inadeguata come moglie diciamo così perché soprattutto è una che si è separata e la madre tende a dare alla gatta morta tutte le indicazioni su come costruirsi una vita familiare cioè gli da tende a dare indicazioni di avere una vita familiare del mulino bianco diciamo no trovarsi un uomo libero trovarsi un uomo con la quale costruirsi una come dire un entourage una una casa del mulino bianco e la gatta morta cosa fa la gatta morta no beh ci sono vari livelli certo più forte il conflitto con la madre più forte il tradimento più forte più è tutto diciamo è tutto graduale alessandra casara la nostra margassona oggi tengo la voce bassa perché ho un po di problemi alla gola e no è tutto diciamo è tutto graduale più forte più in modo forte ha vissuto ha percepito la madre come fallita da un punto di vista della relazione della relazione con con il padre più l'ha percepita fallita diciamo così più si manifesta come gatta morta perché una madre che ha fallito una relazione col marito o perché sei separata o perché separata in casa insomma una relazione fallimentare col marito e è dato questo modello alla figlia cosa succede che più foro più 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 marcatamente la figlia ha percepito la madre come fallita da un punto di vista sentimentale più cercherà di fare il contrario di quelli che sono i consigli che le vengono dati siccome i consigli che dalla madre alla figlia sono creati una famiglia creati qua creati la cosa che lei non è riuscita a fare di fatto a crearsi la famiglia del mulino bianco la gatta morta la gatta morta cosa fa fa esattamente il contrario anziché trovarsi anziché trovarsi un uomo libero gli interessano solo quelli sposati per dimostrare alla madre che ha torto fondamentalmente e gli interessano solo quelli impegnati sposati impegnati difficilmente una una gatta morta avrà vorrà un uomo vorrà un uomo vorrà un uomo libero non sa cosa farsene un uomo libero perché un uomo libero rappresenta proprio il modello che gli propone la madre quindi alla gatta morta gli interessano gli uomini impegnati e quindi devo dire che si relazionerà con gli uomini impegnati potrà anche la gatta morta crearsi una sua famiglia a un certo punto non è detto che la gatta morta non debba trovarsi una famiglia si può anche creare una famiglia la gatta morta ma soltanto a livello istituzionale la gatta morta se si crea una famiglia tende a trovarsi un uomo che poi cornificherà dal mattino alla sera ma che deve essere un erogatore di servizi cioè la gatta morta se si sposa si sposa solo per interesse non per amore ma neanche per bene gli unici matrimoni diciamo così che fanno le gatte morte sono matrimoni di interesse con uomini che riescono a controllare a dominare e a tradire sistematicamente quindi chi si sposa con la gatta morta di solito sono uomini che magari sono danerosi uomini che si innamorano e che consentono diciamo così di insomma tende a vedere l'uomo più come una carta di credito che come un uomo col quale avere un una relazione diciamo una relazione ecco tendono a vestirsi da santarelline come dice cat woman hanno un abbigliamento diciamo tendono a essere diciamo ma sono estremamente seduttive ma difficilmente si mettono in mostra la gatta morta non metti in mostra non si mette in mostra diciamo fisicamente non esibisce non esibisce diciamo parti del corpo eccetera eccetera le gatte morte non è detto che siano narcisisti non è detto che gli uomini ricchi sposano una una bella e vistosa la gatta morta non è brutta è brutta cioè è variabile quello non è detto che sia brutta l'imprinting ma tiene un basso profilo non è sicuramente una donna vistosa ma non è che gli interessano poi uomini estremamente ricchi ma uomini che comunque possa sottomettere possa controllare insomma quello gli interessa fondamentalmente no si può innamorare la gatta morta di chi cinema ecco di chi è interessante di chi si innamorerà la gatta morta di chi la rifiuta cioè se un uomo vuole sedurre una gatta vuole far innamorare una gatta morta come deve fare deve presentarsi impegnato e quando lei ci prova a rifiutarla se tu la rifiuti questa si coinvolge da matti comunque deve devi rifiutarla se tu vuoi se tu vuoi diciamo far innamorare una gatta morta devi rifiutare un maschio che vuole fare innamorare una gatta morta deve rifiutarla deve dire non mi interessi non mi piaci non ti voglio rifiutarla proprio in modo in modo brutale maria la mela ciao maria la mela un saluto a maria la mela beh la gatta morta non è che conquista con l'illusione come conquista la gatta morta la gatta morta conquista con la femminilità e la sensualità che ha in questo modo con conquista la gatta morta rischia sempre le botte e sono convinto che non hanno satelliti che sa quanti c'è forma ma no beh dipende rischia le botte in che senso dipende 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 sono sono comunque molto seduttive hanno comunque hanno comunque molti uomini ma ha questa caratteristica la seduttività la seduttività c'è la gatta morta sono le donne naturalmente più seduttive e sono molto più seduttive e molto più seduttive che significa gatta morta ma la termine terminologia nasce proprio da una caratteristica che hanno i gatti di fingersi morti per prendere la preda la terminologia gatta morta nasce da questo è una tecnica di caccia che usano i gatti quando il gatto vuol prendere il topo diciamo così come fa a prendere a non tutti i gatti ma è comunque una tecnica di caccia che usano i gatti si fingono morti si fingono morti in modo tale che la preda del gatto si avvicina tranquillamente e non percepisce il pericolo e quando e quando e quando diciamo la gatta il topo o la preda quello che è si avvicina si avvicina al gatto un uomo molto intelligente di potere mi sta seducendo max mi sto coinvolgendo e non va bene è tanti tanti succede succede che devo dire allora quindi questo questa tecnica di caccia della gatta morta è quella la tecnica di caccia della gatta morta è quella no e rappresenta un po questa metafora in effetti lei fa come il gatto che si finge morta lei si finge diciamo rispetto alle altre donne perché le donne la cosa interessante della gatta morta è che le donne non la percepiscono come un antagonista non la percepiscono un antagonista perché ad esempio la gatta morta che tecnica usa si sceglie sempre delle amiche molto appariscenti la gatta morta si sceglie delle amiche molto appariscenti molto vistose molto esibizioniste quelle che vanno sempre in giro minigonnate quelle che vanno sempre in giro col tacco 15 si sceglie queste con le tette di fuori si sceglie questa tipologia di amiche qua quelle molto provocanti vistose sposate e quindi queste donne non la percepiscono come non la percepiscono come antagonista non la percepiscono come antagonista perché sì 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 le amiche delle gatte morte sono molto più appariscenti di lei ma lo fa la la tecnica che utilizza la gatta morta utilizza la gatta morta è quella di apparire di basso profilo quindi queste donne non la vendono competitiva perché si giudicano molto più sensuali appariscenti eccetera però non tengono in conto alcune considerazioni intanto che magari apparentemente sono più sensuali e tutto ma hanno una sensualità più grossolana diciamo così hanno se perché la sensualità poi di fatto né esibire parti del corpo andare vestiti in giro da mignotone non è quella la sensualità o perlomeno quella è una sensualità grossolana diciamo così una sensualità grossolana non è una sensualità raffinata tra l'altro la gatta morta anche di solito a un livello culturale anche molto alto sa parlare di tutto sa interessare gli uomini non soltanto a livello fisico ma li sa prendere a livello li sa prendere a livello mentale perché comunque sa entrare in empatia profonda con le emozioni degli uomini sa entrare in empatia profonda con come dire con il desiderio con i desideri nascosti con i turbamenti più profondi degli uomini sentra a questa capacità empatica di entrare in empatia profonda con questi con con gli uomini quindi entrando in empatia profonda non vado d'accordo con quell'approccio che ho usato ma io boh jessica naturopata quell'approccio cavoli devo coinvolgere ma tati tati fino a ieri non eri decoinvolta che ti sei decoinvolta oggi ti sei coinvolta oggi ti sei capito fino a ieri non eri non eri coinvolta dicevi non mi coinvolgerò mai e in un giorno ti sei coinvolta che strano comunque questo utilizza la gatta morta no e è quello che riesce a fare diciamo così si fa scattare un'attrazione cerebrale e poi essendo coperta essendo normalmente scoperta essendo normalmente coperta scatena l'immaginazione del maschio perché ho fatto anche un video è come dire se una donna è coperta e ti viene l'idea di come sarà nuda questa come come sarà cosa avrà cosa farà perché se una arriva già che esibisce tutto e non c'è nulla cioè tu non non elabori nessuna fantasia quindi è molto più è molto più come dire seduttiva tra virgolette una col burca che una che non al burga per fare un esempio no però la seduttività sta nell'immaginazione quindi una che va e che va in giro con la pelle che già esibisce non non genera diciamo non genera nessuna genera una bassa attrattività intanto perché magari vedi le magagne perché quelle così minigonnate poi dopo vedi la cellulite vedi che le smagliature e come dire perché non è che sono tutte fotomodelle che dici a si mette una minigonna chissà hanno ci sono anche le magagne che vengono fuori no ci sono anche le magagne che vengono fuori e queste magagne che vengono fuori e si le macerie vengono fuori le macerie perché come dire o sei una ragazza di vent'anni che fa sport che fa che si tiene in forma e così allora puoi esibire diciamo anche volendo diciamo ma ma praticamente invece molte donne diciamo di cinquantenni per dire hanno in giro minigonna che cosa è poverso che è in realtà all'attento osservatore diciamo all'attento osservatore no è un esempio un esempio alessandro è un esempio detto minigonna per dire una potevo dire qualcosa del genere no però questo può dire che cosa che che ci sono diciamo come dire delle donne che esibiscono quando come dire in realtà che esibiscono sono abbastanza macerie insomma le gatte morte invece no vabbè infatti che non sicuro fisico sia le gatte morte invece tengono un abbigliamento molto coperto un abbigliamento molto coperto e molto coperto per quale motivo molto coperto perché non esibiscono insomma non esibiscono e quindi ma nell'intime lo portano beh sì certo poi la gatta morta può sfoggiare diciamo al di sotto della cosa può avere sicuramente una sensualità una una sensualità deve avere una può ha di sotto una sensualità poi però questo per dire che cosa per dire che questa doppia diciamo attitudine della gatta dà la possibilità diciamo così al al maschio di immaginare e alla moglie del maschio di non vederla come un antagonista fondamentalmente e poi una come entra la gatta morta in amicizia diciamo così e cercando di consigliare no diventa tende a diventare il grillo parlante di una donna lei tende a diventare il grillo parlante fa un po da ombra e e si comporta in modo tale da aggancia le gatte le gatte morte agganciano come amiche di solito delle donne molto egocentriche molto vistose egocentriche per cui queste donne qua hanno piacere di accompagnarsi con la gatta morta perché come se lei li facesse fare bella figura no perché davanti ad altre donne dice hai visto che bella che ne so hai visto francesca che bella guarda come bella sempre ben vestita lei è molto sensuale tutti gli uomini la guardano quindi tende a fare molte a fare molti complimenti all'amica di cui ha addocchiato il marito diciamo così quindi lei ha addocchiato il marito dell'amica e allora non agisce direttamente sul marito agisce prima sull'amica eh esaltandola no quindi esaltandola e quindi questa amica questa donna qua eh ha piacere a portarseli in giro perché gli diciamo gli aggancia l'ego sono molte donne che hanno un ego ipertrofico diciamo così che che si sentono beh bisogna avere cervello non è detto che come dire che viene sgamata subito eh non è detto che viene sgamata subito se una gatta morta eh sgualfa viene sgamata subito ma le gatte morte come si deve diciamo così eh non vengono sgamate subito non vengono sgamate subito perché comunque fa usano la tecnica del gatto appaiono innocue diciamo così appaiono innocue appaiono innocue e agganciano l'ego no del il marito inizialmente non lo prendono quasi neanche in considerazione e solo in un secondo tempo no cioè che piano piano di sotto le gatte morte hanno ehm come un po' come fa il gatto no non è che ha un'unica preda lui ne tiene sotto controllo due o tre ne tiene sotto controllo due o tre la gatta morta e quindi ehm ha questa capacità eh diciamo che è la tipologia di donna più seduttiva in assoluto comunque è la tipologia di donna più seduttiva in assoluto perché molti uomini poi perdono la testa per molti uomini poi perdono la testa per le gatte morte e beh diffido delle donne che mi fanno i complimenti è una cosa buona no questa di Mirella è una cosa buona perché lei fa complimenti proprio per agganciare la donna no ma eh dipende poi dall'abilità da quanto è abile la gatta morta no però normalmente non destra sospetti normalmente viene vissuta in modo abbastanza innocuo no per cui tuo marito lo manderesti pure a fare la spesa con lei no per dire eh è lì che arriva beh ecco la versione maschile il gatto morto eh c'è anche la versione maschile eh della gatta morto ma è molto meno è molto più edulcorata come come versione diciamo quella maschile perché il maschio eh non ha la capacità di si manifesta subito come gatto vivo questa eh è la è il fatto che il maschio non è capace di fare il gatto morto perché non sa non sa attendere no c'è questa cosa qua del del maschio che eh perché non sa fare il gatto morto perché anche il maschio potrebbe utilizzare questa strategia ma il maschio ha fretta e invece la gatta morta non ha fretta la gatta morta sa attendere la gatta morta è una vera cacciatrice e lei la vera cacciatrice lei sa attendere e sa attendere che la preda diciamo si fidi di lei mentre invece il gatto l'uomo il maschio che vuol fare il gatto morto potrebbe farlo ma deve dovrebbe diciamo stravolgere un po' la modalità di caccia maschile perché il maschio va a caccia e vuole eh la preda come dire vuole vuole conquistare la sta preda non non gli va di fare il passivo alcuni lo fanno meglio altri lo fanno peggio però è una strategia che si può imparare quindi suggerisco a giorgio perkins di approfondire anche questa tecnica strategica esatto l'unico modo per diciamo per utilizzare questa strategia fare il gatto morto e avere tante situazioni no tanti amici e tanti amici e fai tanti amici per farti poi le mogli degli amici al giro diciamo ti fai tutte le mogli degli amici però prima devi diventare amico devi devi far passare devi far passare un po un po di tempo insomma devi far passare un po di tempo e poi devi creati anche cioè il maschio ad esempio non ha voglia no di non ha voglia di mettersi ecco un'altra cosa che al maschio tende avere la competizione con gli altri maschi quindi un maschio che si mette lì e dire oh che bello che sei giorgio guarda che bella voce che ha giorgio io ogni volta che vado in giro con giorgio mi vede cioè lei ha una voce fantastica di fare tutte sti salamelecchi diciamo così per poi fregarti la moglie il maschio non ne ha voglia non so ma tende a vivere di più la competizione diciamo con con altri maschi perché la gatta morta ha questa grande capacità di mettersi in di mettersi in posizione down è normale che la parola maschio mi dà fastidio e non so maschio e femmina sono allora tanto per chiarire che differenza c'è tra tra maschio e femmina e tra uomo e donna allora almeno dal mio punto di vista quando uso il termine maschio e femmina li utilizzo li utilizzo nel nella conquista maschio e femmina uomo e donna li utilizzo nelle relazioni esterne verso gli altri c'è quindi proprio il termine maschio e femmina utilizzo nella conquista di una persona di sesso posto quindi il maschio e entra in modo seduttivo la femmina entra in modo soltivo l'uomo e entra in modo nella società diciamo no questa è la differenza e la differenza della terminologia tra tra maschio e uomo e tra femmina e donna no ecco la gatta morta se tu hai a che fare con una gatta morta non devi farli ingelosire l'unico modo per ripeto per sedore la gatta morta per far sì che la gatta morta per agganciare per far innamorare una gatta morta l'unico 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 modo è quello l'unico modo è quello di l'unico modo è quello di rifiutarla la gatta morta non resiste al rifiuto e le nazalini eccola qua e le nazalini che mi ha mandato due bellissime foto di vienna che ho postato su instagram non sono stato io a vienna no volevo dire qualcuno magari vede le foto di vienna qualcuno mi ha scritto ma se sta a vienna no non sono stata a vienna non muovo il culo dal divano quindi non sono stata a vienna ma ho postato le foto di elena zalini che mi ha mandato che invece lei sta a vienna brava elena quindi non ho postato le foto di vienna perché non muovo il culo però a vienna piacerebbe andare comunque e la gatta morta e la gatta morta la sì ma non ho capito tanti tanti cioè fino a ieri non eri innamorato di nessuno c'è che non ti innamori di nessuno e oggi ti sei innamorato di questo ma secondo me c'è un'infatuazione sotto comunque è sì bellissima vienna non sono mai stato vienna ma un giorno andrò a vienna perché vuol dire ci sono due viennesi ci sono due viennesi martina elena le due viennesi e io non sono mai stata a vienna un famoso culo divanato esatto esatto comunque è interessante la viennetta non sono mai stata a vienna che è vicina a vienna ma non sono mai non sono mai stata vienna penso sia beh anche le foto che ho viste molto bella portaci tiziana che tiziana portaci tiziana chi sarebbe tiziana chi è tiziana giuseppe portaci tiziana ma non conosco nessuna tiziana io vabbè o il papa il nostro papa marco papa alessandro marco papa andiamo a savona da max esatto esatto quindi comunque dicevo eh immagino che vienna sia bella immagino che ma un giorno anche vienna andrò a visitarla dai no perché comunque come capitali europei vienna mi manca me ne mancano altre anche berlino ad esempio non so neanche come sta berlino seminario bene la mia voce un po peggio alessandro perché ho parlato ieri due ore e oggi ho la voce a pezzi praticamente e allora stavamo dicendo no quindi riprendendo il discorso riprendendo il discorso della gatta morta l'unico modo per sedurre oh eccola qua ti sento mi devo collegare martina di vienna eccola qua l'altra viennesa abbiamo due viennesi martina e elena azzalini di vienna sa un giorno devo venire a vienna magari ci prendiamo il caffè a vienna se benvenuta eh lo so che sono benvenuta adesso devo organizzarmi perché vienna è una città che comunque voglio visitare perché comunque è una capitale europea da visitare insomma un po infatuata eh brava tanti tanti beh l'infatuazione se ti vivi bene l'emozione è interessante eh lo so però stavolta mi è caduta un po la voce devo imparare da giorgio usare meglio la voce anche le gatte morte anche le amiche gatte morte come allora un maschio che se deve sedurre una gatta morta deve semplicemente rifiutarla la gatta morta siccome ha questo imprinting di voler portare via a tutti i costi il padre alla madre tra virgolette quindi sottrarre il padre buono dalle grinfie della mamma cattiva non tollera il rifiuto quindi un uomo che vuole sedurre una gatta morta deve semplicemente rifiutarla e rifiutarla in che modo questa è la frase chiave per sedurre una gatta per far innamorare una gatta morta gli dici non vengo con te perché sono innamorato di mia moglie non vengo con te perché sono innamorato quindi anche se non hai la fidanzata devi trovarti una spalla e non so io ogni tanto ma se lo seduro una gatta morta mi trovo una spalla mi trovo una spalla eh che faccio passare come la mia fidanzata insomma mi trovo una spalla e poi eh alla gatta morta e dico no guarda non non vengo io sono fedele sono fedele non non tradirò mai la mia fidanzata e allora questo scatena un qualcosa di pazzesco no dentro la gatta morta scatena un qualcosa di pazzesco dentro la gatta morta eh senti tatti tatti ne stai parlando troppo di questo quindi vuol dire che sei già innamorato e continui a parlare e quindi siccome la lingua batte dove il dente duole per non dire altro eh vuol dire che tu di questo sei già innamorata e il problema che se tu ne parli è perché sei già innamorata se no non ne parleresti perché l'innamoramento quando uno ne parla è già fatto è come dire ce l'hai già dentro quando ne stai parlando ce l'hai già dentro non è che ne stai parlando e sei ancora fuori quando uno ne parla è già andato quando uno ne parla è già andato perché prima non se ne parla perché prima l'innamoramento è un po' come la pioggia no c'è tutto un processo che viene a livello subliminale di cui non ti accorgi e quindi non ne parli quando ne parli perché sei già bagnata bagnata non nel senso che dicevamo bagnata nel senso che ti piove l'acqua in testa e quindi hai preso la pioggia hai preso la pioggia quindi siccome ne stai parlando vuol dire che sei già innamorata appunto se no non ne parleresti perché tutto il processo subliminale dell'innamoramento fa sì che le persone non ne parlano è come dire quando uno non è che vedi tutte le nuvole che si addensano a differenza di potenziale tu vedi la pioggia che arriva esci ti pigli l'acqua in testa e dici tavolo piove è più ovvio di che se tu ne parli sei già innamorato se no ne parleresti e allora quindi tornando al discorso precedente tornando al discorso precedente no tra l'altro c'è erosi non so se c'è erosi ha fatto un video carinissimo di mie imitazioni cioè mie imitazioni ha preso dei video e li ha messi su un come sottovoce di un film sottofondo e quindi dicevamo questo no dicevamo questo che massimo tra maschi ha detto che andiamo inseminare a viena andiamo inseminare a viena andiamo inseminare a viena non so in viena vado a vedere va non so se vado a vedere o no e rosi è fortissima hai visto quel video lì cavolo rosi è grandissima full metal jacket ah ok full metal jacket ditono l'orec su full metal jacket mirko papella non posso urlare perché se ne va via la voce comunque è fortissima rosi asciugatati ah ecco giusto 15 febbraio qua dobbiamo cambiare la data non è più l'otto ma il 15 tra l'altro 15 febbraio farò a torino un corso sulla autostima sull'autostima e sulla seduzione quindi a torino venerdì 15 febbraio non potete mancare perché il seminario secondo me è uno di quelli più interessanti non è che lo dico io perché cioè come dire ogni figlio ogni scarafone è bella mamma sua quindi tutti i miei seminari sono per me sono figli miei quindi sono belli ma quello di torino di questo prossimo weekend venerdì secondo me è particolarmente interessante perché tratta dell'unione tra l'autostima e la seduzione quindi io direi che è particolarmente interessante chi volesse venire quindi torino dura due ore torino venerdì 15 febbraio che tra l'altro è san faustino mi sembra no quindi avete già affeggiato san valentino vi siete già beccati le corna di san valentino e quindi potete venire cornuti e contenti a seguire il seminario il mio seminario di torino venerdì 15 febbraio che tratterà dell'autostima e della seduzione mentre a milano e a roma sono due seminari full immersion domenica 3 marzo dal 9 30 19 e a milano e a roma domenica 7 aprile sempre dal 9 30 19 e il riferimento è il 3 3 3 15 11 7 0 3 per tutti i seminari quindi tornando al discorso precedente chi vuole le info sono scriva al 3 3 3 15 11 7 0 3 15 11 7 0 3 jessica naturopata mando un messaggio 3 3 3 3 3 15 11 7 0 3 che poi il mio numero e ti rispondo mi dici sono jessica naturopata e ti do tutte le info le info di questo mondo il gatto eccolo qua il gatto è tornato dalla crociera sei tornato gatto con le carampane abbiamo visto le carampane della crociera del gatto stasera andrò anch'io a ballare con delle carampane mi sa stasera andrò mi sa che va da giro infatti stasera non so se faccio magari faccio una live veloce dalle 9 alle 9 e mezza sforzo una live velocissima perché voglio andare dalle carampane anch'io stasera dalle carampane stasera anch'io dalle carampane vado falla per favore e faccio per favore tiziana betelli stasera vado dalle carampane o la faccio tardi ma tardi sarebbe ma la diretta la farò magari però una diretta molto veloce sul presto tipo dalle 9 alle 9 20 così non è mezza e poi comunque andare a genova ci mette un po di tempo col ponte che è caduto aiutami con una live tatti tatti aiutati con una live dipende sempre dagli obiettivi che hai è lungo tatti tatti è lungo e duro da spiegare discorso bisognerebbe infilarlo in modo più preciso perché detto così è un po lungo e duro le carampane stasera dalle carampane stasera io vado a ballare dalle carampane clip clip stasera a ballare dalle carampane dalle carampane dalle carampane genovesi stasera la campana dai la campana per tatti tatti dai disi facciamo disinnamorare un pensiero per far disinnamorare tatti tatti quindi la campana per disinnamoramento di tatti tatti la campana per far disinnamorare tatti tatti ma andiamo le energie per far disinnamorare tatti la contro seduzione di tatti tatti beh guarda c'è una soluzione tatti tatti potresti innamorarti del gatto che il gatto è più tranquillo innamorati del gatto tatti tatti e ti disinnamori di quello ti puoi innamorare del gatto tatti tatti innamorati del gatto innamorati del gatto io ti do questo suggerimento tatti tatti innamorati del gatto e non ti innamorerà e così non ti innamori più di quello di quello lì tanto il gatto è abituato alle carampane quindi il gatto è bravissimo no no innamorati del gatto non di me innamorati del gatto del gatto del gatto il gatto che anche cucina qui non sottovalutate il gatto perché cucina pure il gatto che non sappiamo se si finge morto ma dottor franco rispoli ciao il gatto è secondo me il nuovo obiettivo tatti tatti potresti andare dal gatto vedi che guarda è già innamorata ti manda già i bacini gatto hai già fatto colpo hai già fatto colpo gatto ti manda già i bacini tatti tatti e già follemente innamorata di te lo sento lo sento è il gatto il gatto comunque isabel nastase comunque quindi eccolo lì guarda ti hai già invitato in croce ma sei tornato dalla crociera gatto o sei ancora in crociera ma non vado in vado a genova tizi jaguar andrò a puntavagno puntavagno in corso italia 3 mi sembra che c'è un locale che diventa milonga che di cui non ricordo il nome però a puntavagno corso italia è una milonga se dov'è puntavagno si è di genova se dov'è puntavagno io ballo tango argentino sì sì tango argentino con le carampane perché nel tango sono tutte anzianotte adesso c'è qualche ballerina di tango qualche mi ficcherà le dita negli occhi però le ballerine di tango sono tutte più o meno almeno in liguria diciamo così in liguria sono tutte anzianotte le ballerine di tango io ballo chizomba chizomba sì chizomba dicono che non ho mai vista la chizomba cioè forse l'ho vista una volta non so io ormai le ballerine di tango sì le ballerine di tango in liguria sono tanzianotte difficile trovi delle ragazze giovani a bologna sono giovani sono bellissime eh che ne so però io a bologna la chizomba ma non so neanche dove si balla la chizomba ma fa parte dei latinoamericani perché qua in liguria non è che c'è tanto o ci sono i latinoamericani o c'è tango argentino i caraibici a torino in tua età beh sì a torino ho visto sono andato qualche volta a torino in milonga a torino a torino in milonga sono andato qualche volta lap dance nei privè tango è da gratta morta non so se tango è da gratta morta no ah beh quello sì è vero Silvia Sisili perché lì è già quelle è come infatti quelle non erano genovesi Silvia Sisili era il festival del tango di Genova quando c'è il festival del tango vengono quello era il festival del tango di Genova e quindi venivano gente da fuori allora quando c'è un festival perché credo che sia un fenomeno ligure che il tango è frequentato da donne anziane diciamo così anzianotte insomma carampane carampane che poi magari si tengono giovani ma di solito di solito sono carampane credo che sia un fenomeno però ligure perché ad esempio anche a Roma non so Stefano Gatto mi sa che le ballerine di tango sono un po' più giovani non so in un corso di lap dance ma io non voglio ma no ma a me io vado a ballare tango perché mi piace non mi affega niente che siano giovani o vecchie che mi importa basta che ballino a me basta che mi ballino e che non mi muoiono di infarto durante il ballo a me va bene cioè che siano io vado lì per ballare non mi interessa mi interessa soltanto ballare no che siano carampane giovani o carampane vecchie basta che ballino bene il tango e che non gli venga un attacco cardiaco mentre ballano e poi va bene così cioè vado lì per ballare basta basta che ballino mi interessa solo che ballino le carampane sono full optional le carampane sono full optional è il target di 50 anni a Roma a Roma c'è tutto un po' e qua in Liguria invece a parte che la Liguria è già vecchia di suo c'è il difibrillatore sulla pista la Liguria è già vecchia di suo brava Tati Tati prenota dal gatto vai dal gatto prenota prenota vai dal gatto voglio la nuova coppia del web la Tati Tati e il gatto Stefano Gatto e Tati Tati tutte no ecco ballare si balla il vantaggio del tango è che essendo prevalentemente donne che vanno lì al tango tu puoi ballare tutta la sera infatti io cerco di concentrare ballare un'oretta ma la crociera del tango la farò volentieri la crociera del tango tra l'altro parte anche da Savona non devo neanche la crociera del tango Stefano Gatto se si organizza la faccio volentieri la crociera del tango sto facendo il gatto morto che gatto morto sto facendo ma non sto facendo nessun gatto morto no no assolutamente no un invito a Roma ma la Tati non è a Roma su che c'entra un invito a Roma dalla Tati chi è la Tati? Tati sì ma Roma è lontana è lontana Roma Roma è lontana Roma è molto lontana comunque ci sono delle carampane genovesi ah eccolo lì Titti ah non Titti Tatti ha detto Titti San eccolo qua Titti non è Tatti Titti ah vengo e beh vieni vieni il gatto di Savona lo chiamavano il gatto di Savona vieni vieni Titti quella diamo anche la chiave a Titti così la facciamo perché non mi fa dare la chiave? c'è qualcosa che nel programma non sta funzionando mi fa dare la chiave mi fa dare la chiave vediamo un po' se riesco a collegarmi con il vediamo un po' vediamo un po' eccolo lì Titti San col computer non riuscivo ma adesso dovreste avere la chiave perché col computer non me la faceva ci deve essere qualcosa che non becca non mi fa fare niente dovreste pronto a scrivere dovreste averla adesso l'ho messa con il con il telefono pronto a scrivere se c'è la chiave dovreste averla adesso comunque detto questo dai dieci minuti ancora di cazzeggio visto che ormai del gatto è morto abbiamo parlato la chiave di casa no la chiave per ammazzare i troll vi ricordo ancora gli appuntamenti quindi Torino ve lo consiglio venerdì due ore dura dalle 21 Torino 15 febbraio e il tema sarà autostima e seduzione che è molto interessante secondo me per cui dovreste partecipare quindi venerdì 21 15 febbraio Torino ore 21 poi ci saranno due seminari intensivi invece di una giornata intera a Milano il 3 marzo dalle 9.30 alle 19 e a Roma il 7 aprile sempre dalle 9.30 alle 19 e il riferimento per tutti è il 333 15 11 703 quindi un po' di campana per far disinnamorare Tati Tati facciamo la campana per disinnamorare Tati Tati salutiamo anche Raffaella Blasi in Puglia in Puglia ma io posso andare dappertutto se io posso andare dappertutto se si organizza non ho la forza di organizzare dappertutto ovviamente campana e carampana campana e carampana ci sono le orecchiette eh lo so ci sono le orecchiette ma tu dove sei Alessandro Papa comunque organizzate io mi muovo se organizzate io mi sposto già comunque adesso poi devo riprendere forse Genova a Roma il 7 aprile quindi il riferimento a Taranto il riferimento è il 333 15 11 703 Torino 12 febbraio 21 Milano domenica quindi a Torino sarà un seminario di due ore dove si parlerà però di autostima e seduzione che secondo me è molto utile e poi a Milano 3 marzo domenica full immersion dal 9.30 a 19 e a Roma full immersion 7 aprile dal 9.30 a 19 riferimento al 333 15 11 703 abbiamo le cozze migliori d'Europa ah ok vado a vista la gatta morta con tacco 12 la gatta morta si il tacco della gatta morta ci sta eh io farei in tutta Italia i seminari ma ci devono essere un po' di persone che partecipano che organizzano io poi mi sposto volentieri la monaca di Monza come ti chiami monaca non mi ricordo mai il tuo nome la monaca di Monza a Milano dopo il seminario andiamo in Milonga a Milano dopo il seminario in Milonga non lo so si può andare a vedere non lo so ma io ritorno però non perché a Milonga magari si può fare una pizza una pizzata dopo il seminario una pizzata si può fare ma in Milonga no almeno io dopo che mi sono fatto otto ore nove ore Mirko Papella magari si chiama Monica la monaca si chiama Monica ah la monaca si chiama Monica ah quindi Monica è sinonimo di Monica da qua non mi è resta poco bene lui non ha più attenzione eh beh sì tieni presente che comunque è uno shock emotivo questo Giulia che ha avuto è uno shock emotivo che ha avuto ci sta che se la mamma mandiamo un po' di energia anche a Danna Rita la mamma di Daniele mandiamo un po' di energia a Danna Rita la mamma di Daniele comunque ci sta Giulia ci sta no non riesco a partire il giorno dopo Stefano Gatto non riesco non riesco pizzata pizzata milanese bene detto questo abbiamo fatto una live molto lunga di un di un'ora e dieci stasera sarà una live molto breve farò una piccola live stasera una live molto breve al tango ci vado stasera sì stasera vado mi sposto fino a Genova faccio questo questa trasgressione di solito non muovo il culo ma stasera vado perché andare al tango a Savona mi fa venire troppa malinconia ogni volta che vado è troppo sono carampane molto carampane quindi faccio questo spostamento questa trasgressione di questi trenta chilometri argomento serale non lo so io decido all'ultimo Titti Sun che ne so ma sarà una una live veramente breve di una ventina di minuti non di più perché comunque poi devo muovermi questa storia del ponte che è caduto ha allungato molto il viaggio verso Genova Viviana Paglionico ecco iscrivetevi al mio nuovo canale bravo Papella Papella iscrivetevi al mio nuovo canale a Catania beh lo so che Catania è la capitale del tango del sud come Torino è quella del nord Catania è quella del sud Tiziana Betelli comunque quindi ricordo anche i seminari e il riferimento è il 333 15 11 7 0 3 quindi che fosse interessato scriva al 3 3 3 15 11 7 0 3 Torino venerdì 15 febbraio ora 19 Milano 3 marzo dal 9 30 19 e Roma 7 aprile sono due domeniche dal 9 30 19 riferimento 3 3 3 15 11 7 0 3 hanno iniziato a demolire il ponte figurati chissà quando lo finiranno sto ponte hanno appena iniziato la demolizione dicono che lo finiranno entro il 2020 2020 mi sembra mi sembra di aver capito che dovrebbero ricostruire il ponte entro il 2020 però per adesso sono ancora lì che devono buttare giù quello lì vecchio esatto la demolizione finiva a fine anno siamo già a febbraio e siamo già a febbraio e non hanno neanche demolito quindi ho i miei dubbi che però adesso c'è la circolazione che hanno deviato la circolazione per cui ti fanno uscire all'aeroporto poi ti fanno entrare in centro a Sestri Ponente e da Sestri Ponente se non c'è traffico diciamo che alla fine si perde un quarto d'ora di più rispetto al al solito il problema è che tutto il traffico viene deviato nella città e quindi adesso magari stasera spero che non ci sia traffico però di solito la Reggio Calabria ha 60 anni però di solito se c'è traffico invece diventa un casino perché gruppo Whatsapp si tu sei di Genova Gilles Miro si a Genova stasera vado a Genova stasera ho deciso vado in trasferta a Genova chi volesse ci fossero ballerine di tango ex carampane o anche carampane di Genova vado a Punta Vagno Punta Vagno numero 3 Corso Italia numero 3 il modellino vabbè il modellino serve ah Ancona il modellino vabbè da Ancona puoi venire non è tanto lontana Firenze Genova dai Firenze Genova puoi venire ok salutiamo tati tati ma salutiamo tutti perché una live lunghissima di un'ora e un quarto ma compenserà quella breve di stasera quindi un saluto a tutti un saluto a tutti dai parti subito che arrivi brava brava parti subito che arrivi live stasera oggi mi ha fatto una live lunghissima un'ora un quarto ex carampana non lo so cos'è l'ex carampana mi è venuto ex carampana non lo so una carampana che ha trovato l'elisir di giovinezza come dire l'ex carampana è una carampana che ha trovato l'elisir della giovinezza e si è ringiovanita con l'elisir della giovinezza l'ex carampane ed ex carampane Elena Zalini ciao Elena il waltzer viennese Elena ci ballerà il waltzer viennese il waltzer viennese quindi buona cena a tutti vi ricordo di iscrivervi al mio nuovo canale e e ci vediamo torno Tiziana Betelli tu di che città sei Tiziana Betelli Tiziana Betelli è come Mirko Papella si riesce a fare a sonare non so ballare Tiziana Betelli Mirko Papella Luisa P Anna Cicognani Baghera La Pantera Tiziana Betelli con due T Mirko Papella abbiamo fatto risvegliare la vicina dal bardo e comunque eh sette camice altro che sette camice l'addizione e la recitazione ci vorranno anche quindici camice mi sa grande Giorgio Perkins balla anche per chi al momento non può Elena Spini mi raccomando proteine grassi poi vedi che zampetti come un capriolo eh non è che non zampetto io provincia di Livorno mi ho vissuto a Follonica da tanti anni quando ero piccola provincia di Livorno ora mi ho vissuto a Follonica ah beh Livorno Genova dai ci metti niente Livorno Genova vieni al tango al tango bene un saluto a tutti e incolliamo qua buona cena a tutti eh in crociera ci credo che hai ballato brava Tiziana Betelli brava brava un saluto a tutti e ci vediamo per una breve live post cena breve live post cena ma abbastanza prezzo tipo 20 e 45 te un'ora del genere diciamo 20 e 45 20 e 45 tra poco tra poco giusto il tempo di mangiare un boccone e un'altra live ciao a tu 21 dai 21 un'altra live e ciao a tutti a dopo ciao ciao a tutti Grazie.